Ecco l'entrata in campo delle due squadre, Virtus Castelfentano-Sparla-Lanciano, gara di campionato provinciale, girone unico di Chieti, l'arbitro è il signor Tenaglia della sezione AIA di Lanciano. Ecco che ci salutano tra di loro. Ognuno va alla panchina avversaria a salutare i coetani che partiranno dalla panchina, a questo lato sono i nostri e qua alla spalla Lanciano. Signore e signori buon divertimento!